Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Shana Kato e oggi farò il mio primo video ASMR ASMR Mi dissocio di quello che ho detto Comunque, adesso proviamo a fare questo bellissimo cacata di video Bellissimo video, bellissimo video La prima volta che faccio un video ASMR e mi sento una cretina Mi sento molto in imbarazzo Ma proveremo a fare un bel video Io spero C***o, panna di piano, non conviccio, non conviccio Salve ragazzi, oggi è il mio primo video ASMR Mi dissocio di quello che ho detto Quindi, dato che è la prima volta che faccio un video ASMR Oggi parleremo piano Mi sento tanto una cretina quando parlo così Ma è un video ASMR Quindi devo parlare a bassa voce Ok? Adesso, la prima cosa che dovremmo fare È... Che c***o faccio? Ok Proveremo a mangiare i cereali I cereali Perché sono a dieta Porta di serie Quindi Adesso Non farò vedere la marca dei cereali Ovviamente Quindi Mangerò questi cereali Che c***o sono? Ecco Fiocchi di mais Sono fiocchi di mais Ora Senti come masticare Molto Molto Croccanti Molto croccanti Non so come dire il termine Di troppo Quindi adesso Guardatevi lo spettacolo Fai scherzo Non so non di niente Sentite il rumore? Mi faccio divertire Mi faccio anzi Rilassare Mi faccio rilassare Come vi rilassate Spero Che senti tutto bene C***o Sto entrando caldo oggi Ma che? Comunque E a parte di mangiare Adesso sentirete Come bevo Un succo di frutta I frutti rossi Perché sono sempre a dieta Ma se a me ci sono anche i miei cani Che abbaiono Vedi? Ehe E qui gli abbaiono sempre Porca trossi Ecco il succo di frutta Ovviamente lo copro così Meglio Sentite come bevo Vedi che schifo Sentite come lo bevo Mi stiamo salzando Porca trossi Ora lo faccio bene Mi state rilassando Ancora Già state Porca trossa Mi faccio anche Rilassante Vedete 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 Adesso Che c***o Adesso Aspettate Oh Adesso Vedete questa cosa qui Guardate Eh Lo sentite il rumore 118 E' bello il rumore E' bello il rumore Vero E poi Corpo di scena C***o C***o Passano le mattie Porca trossa Sì 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 Però devo farlo Lo stesso Sì 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 Ma che vi ammazzo Stupide macchine Che passano Non so che c***o Era una Una che passava Scusate E li facciamo Mi piace il rumore Della colia C***o Della marca Perché Dice che ammorde Le carabelle Un'ultima cosa Anzi no Prima Devo dimendere un'altra cosa Sade Oh my god What is that Oh my god What is that Mi piace il rumore Mi sono fatta malissimo Le guancica C***o C***o In questo video La papà ti è immersa C***o C***o Qualcuno ha scorreggiato Adesso L'ultima cosa Sentite questo Faccio qui Dicendo a me Perché Il microfono Ce l'ho qui Purtroppo Nelle cuffiette Perché il microfono Mi si è arrosso Nel computer Che bello State rilassando Sono la più brava a fare l'smr E siete rilassati Sono bravissima io E adesso Non so dove c***o fare Però E' magnifico E' fantastico Zunamacistosa Zunamacistosa Tra la la Tra la la Che sento rumore Che sento rumore Mi piace Penso che il video Si conclude qui Perché non so Che c***o fare Quindi Spero che il video Vi sia piaciuto E che vi siete rilassati Ok E se questo video vi piace Fatelo sapere sotto nei commenti E faremo altri smr Capito? Tanti like E commenti ci sono E più Farò questa serie Magari Queste volte farò un po' meglio Ma Ok Bene Agli porco E questo video finisce qui E se vi vi è piaciuto Mettete mi piace Commentatemi I commenti E sapere che pensate E se avete continuato Questa serie ovviamente E condividete E iscrivetevi Il mio canale youtube Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina Se non volete perdervi nulla E vi linko sotto Nei commenti Tutti nei social E anche del mio appartino facebook Andatemi a seguire anche lì Grandi Ci vediamo in prossimo video Ciao Ciao a tutti Benvenuti nel mio canale Ciao a tutti Benvenuti nel mio canale Che sto dicendo Che sto dicendo Benvenuti nel mio video Io sono Shanna Cato Oggi dovremo fare il primo video ASMR No 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 Non devo parlare Non ho sbagliato Grazie Ciao a tutti Ciao a tutti Io sono Shanna Cato Eh no Che sto dicendo Ah non lo so io Ciao a tutti Benvenuti nel mio canale Io mi chiamo Shanna Cato Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.